Noi siamo purtroppo l'Italia in questo momento il fanalino di coda per quanto riguarda il supporto allo studio, soltanto il 15% dei nostri studenti ricevono un supporto allo studio. Stiamo parlando dell'ordine di finanziamento di 9 milioni di euro, per intenderci 9 milioni di euro sono più o meno i soldi che spende il Comune di Roma per le auto blu dei propri consiglieri, consiglieri comunali. 9 milioni di euro è il fatturato medio di una piccolissima azienda. Se volessimo tagliare gli stipendi a tutti i parlamentari, facciamo anche soltanto i deputati di tutti i partiti politici, in 4 mesi avremmo i finanziamenti che oggi lo Stato dà per il diritto allo studio. Quindi stiamo parlando di questo ordine di cifre. Nel 2013 è scesa ancora questa cifra al 13%. Il nostro Paese investe l'1% del proprio PIL in università ricerca. Se volessimo restare nella media semplicemente dei Paesi europei dovremmo aggiungere 30-40 miliardi di euro a queste cifre.